La fanfara dei Carabinieri, come ogni anno, omaggia l'Aquila in occasione della perdonanza celestiniana. Un concerto sempre apprezzato, tant'è che la Basilica di Colle Maggio era letteralmente grimita, con posti in piedi. Tantissimi brani proposti dai musicisti e dal loro direttore, a testimonianza del legame che ha l'arma con il territorio, come ha sottolineato il padrone di casa e il comandante provinciale, colonnello Nazareno Sant'Antonio. Ancora una volta l'arma dei Carabinieri vuole testimoniare questa vicinanza alla popolazione dell'Aquila e durante i festeggiamenti della perdonanza non poteva mancare un appuntamento come questo di oggi, di questa sera, con la fanfara della Legione Allievi di Roma. Un legame che si rafforza sempre di più con questi eventi che poi vengono offerti alla città e con la vostra attività quotidiana. È un'arma sempre più aperta alla collaborazione con il cittadino, ad un rapporto fiduciario? Sì, l'arma è sempre più prossima al cittadino in tutte le sue manifestazioni, dalla pattuglia per strada alla centrale del 112, ma anche con eventi culturali come questi, con la fanfara che testimonia le grandi tradizioni dell'arma dei Carabinieri anche nel campo musicale.